La scuola basketarezzo premia i protagonisti della promozione in serie C-Gold. L'appuntamento venerdì al Palasporta Estra Mario D'Agata rappresenterà il momento per omaggiare i giocatori e lo staff tecnico che domenica sera sono riusciti nell'impresa di vincere i play-off e di meritare così l'accesso alla quarta serie nazionale. La cerimonia sarà aperta alla libera partecipazione dell'intera città che è invitata ad un momento di festa che troverà il proprio apice nella consegna del trofeo alla squadra da parte del sindaco Alessandro Ghinelli alla presenza anche del presidente Mauro Castelli, del main sponsor Amen. Nel corso della serata saranno ricordate le principali tappe di una stagione ricca di emozioni contrapposte con un inizio difficile. A dicembre la sbaira nona nella classifica del campionato e con un finale in crescendo rivalso il secondo posto nella regular season che ha culminato con l'entusiasmante cavalcata nei play-off. I cinque incontri della finale con la Vesmeda di Costone Siena, con la sofferta vittoria al photo finish 76-74 sono stati la ciliegina sulla torta di una delle stagioni più belle della storia del basketaretino. I maggiori applausi saranno rivolti a coloro che hanno contribuito al ritorno di una squadra cestistica cittadina in un campionato nazionale a partire da coach Omar Serravalli che si è fatto carico della squadra a fine 2018 e da Simone Marraccini che ha contribuito alla preparazione atletica arrivando ai singoli giocatori di un roster che è composto all'80% da ragazzi cresciuti nel vivaio della società retina. Abbiamo raggiunto un traguardo eccezionale, ha detto il presidente Castelli che permette alla città di Arezzo di avere una propria rappresentante in Serie C Gold. Ci sembra dunque doveroso festeggiare questo risultato con le istituzioni, con i tifosi e in generale con l'intera città che invitiamo a questa premiazione.